Coraggio Coraggio, ho scelto coraggio perché il coraggio è contagioso. Gratitudine, ho scelto gratitudine perché una vita senza gratitudine diventa molto sola. Ciao, ho scelto integrità perché integro significa intero. Io ho scelto di essere intera, di non scendere a compromessi e purtroppo la società di oggi ci chiede di scendere a tanti compromessi. Per questo ho scelto integrità perché ho deciso di rimanere intera. Io ho scelto ottimismo perché senza non si possono vincere le sfide di tutti i giorni. Io ho scelto rispetto perché rispettare l'altro nella vita di ogni giorno credo sia una delle sfide più grandi che ognuno di noi deve affrontare. Ciao, sono Andrea, ho scelto l'amore perché l'amore è tutto. Ciao, sono Andrea, ho scelto. Ciao, sono Andrea, ho scelto.